E' nato benissimo direi, è stato un Vinitaly in cui si era ispirata tanta passione per il vino con una grande affluenza, un'enorme attenzione da parte di tutte le autorità con il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio che sono venuti da noi abbiamo avuto la visita di tanti buyer internazionali, opinion leader, giornalisti quindi io sono molto soddisfatto, per noi Vinitaly è sempre un appuntamento fondamentale in cui dedichiamo grande attenzione, in cui investiamo molto anche in termini di risorse siamo qua in tantissimi dalle cantine Ferrari, però direi che anche quest'anno siamo soddisfatti Noi abbiamo poi uno stand che svolge due funzioni, da una parte vogliamo sempre accogliere i nostri clienti italiani tanti ristoratori, bar, inoteche che sono i nostri clienti in Italia e che vengono a visitarci a Vinitaly per raccogliere delle informazioni sulle nostre novità per rimanere in contatto e quindi è una grande occasione di comunicazione dall'altra parte è anche il momento in cui noi facciamo gli incontri con i nostri importatori a livello internazionale, con i grandi buyer e questa è la parte più strategica abbiamo costruito proprio uno stand che ci deve aiutare a fare entrambe queste cose per cui direi, poi sai, io sono stato un po' blindato all'interno del nostro stand quindi posso dire che qui c'era sempre il gran pienone e la coda fuori però ho respirato anche parlando con i colleghi del mondo del vino sempre una bella attenzione e poi sono convinto che la fiera abbia fatto anche una scelta giusta nel creare anche questa sorta di fuori vini Italy in città qui in fiera secondo me bisogna concentrarsi sull'aspetto B2B gli appassionati e gli amanti del vino secondo me hanno una città meravigliosa che è Verona e tutti noi imprenditori del vino così come la fiera dobbiamo incentivare la creazione anche di eventi in città che invece vadano più nella direzione di avvicinare gli appassionati di vino al cosiddetto fuori vini Italy è una formula secondo me che bisogna portare avanti